Ceremonia di premiazione lavoratori della settimana. Oramai a chi importa più? Tutti i dipendenti ne hanno già ricevuta una. Eccetto! Salve, oggi è un giorno super ok per Homer J. Io so che questa volta vincerò. Ah sì, come mai? Regola 26 del sindacato. Ogni dipendente deve essere premiato almeno una volta come lavoratore della settimana a prescindere dall'incompetenza madornale, l'obesità o sudorazione puzzolente. Prestate attenzione. Creiamo un bel silenzio stupefatto per il signor Barnes. Compadres, è doveroso annientare i combattenti della libertà prima che inizi la stagione delle piogge. Ricordate, ci sarà un lucente asino per chiunque mi consegnerà la testa del colonnello Montoya. Cosa? Voglio dire che è giunta l'ora per la premiazione del lavoratore della settimana. Non posso credere che abbiamo trascurato il vincitore di oggi per tutto questo tempo. Non avremmo mai potuto andare avanti senza i suoi infaticabili sforzi. Perciò facciamo un bel applauso a questa barra inanimata di carbone. Inanimata, glielo faccio vedere io l'inanimata. Grazie! 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 Grazie!